ancora attacco del potenza, scambio al limite dell'area Scipioni Rossi in area, palla che arriva lì e sbaglia Allora siamo sulla piattaforma Bambuser, interrotto il flusso su Periscope possiamo finire la partita su quest'altra piattaforma il potenza ha sfiorato il gol con Franz che da pochi passi non è riuscito a indirizzare verso la porta difesa da Selva, ma potenza che insiste pericolosamente in avanti quest'ultimo quarto d'ora, palla in area, stavolta Scipioni, Bertacchi, Agodirin pallo, pallo su Agodirin condizione per il Nardò Bertacchi, scambio con Caporale sbaglia ma c'è ancora Mangione Pazzo Scipioni palla da Alessio Palmisano Alessio Palmisano va sul fondo, palla in area chiude Russo il calcio d'altro l'altro il pallo laterale chieda vibrante il potenza è andato vicino al pari con Franz ma Nardò che ora si è fatto pericoloso con una discesa di Alessio Palmisano che ha costretto in affannoso chiusura, in affannoso rinvio la difesa, palla che spiove ancora nell'area del potenza Bertacchi apre su Leandro Versienti Versienti dietro Bertacchi Nardò tiene palla avanza Bertacchi appoggio Caporale per Cavaliere Agodirin non passa il pallone ma ancora Nardò gigante gigante avanza il gigante Stanco perde palla riparte il potenza pericolo sulla destra c'è Franz Franz su di lui Caporale non passa non passa Caporale però regala palla a centro campo esposito 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 su di lui recupera Cavaliere si lotta si lotta su ogni pallone avanza Cavaliere avanza Cavaliere avanza Cavaliere insiste non c'è nessuno ad aiutarlo arriva Mangione inesauribile Mangione sulla fascia ancora controllo va a cercare il cross ma non trova il corner palla che è finita sul fondo rimessa per il potenza siamo a 32 e mezzo ancora 32esimo del secondo tempo ma la partita è più che mai aperta fallo di Agodirin batte ancora Russo cerca un pallone per Guajda ci sembra Franza Franza che ha pasticciato non è riuscito a controllare palla che è finita in pallo laterale per tacchi scambio poi Scipioni cerca Agodirin di tacco Cavaliere Cavaliere a Agodirin a Agodirin si ferma ancora Agodirin per Gigante il tiro però è telefonato per Mazzoleni ma ancora Mangione che partita questo ragazzo che partita questo ragazzo Mangione per Scipioni 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 entra in area poi viene fermato da Esposito ma ancora si lotta tardò aggressivo potenza prova a venirne fuori Bertacchi recupero Bertacchi dribbling dietro caporale in avanti Ersienti si gira controlla perde palla palla laterale per il potenza battuto corrisposito su di lui Agodirin ma c'è Cavaliere pulito pulito per peccato perde il tempo della giocata ma c'è Agodirin Agodirin al tiro poi c'è Cavaliere il Cavaliere ancora Nardò palla in area Nardò versenti 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 va sul fondo arriva il cross palla deviata ma che occasione ma che occasione per il Nardò che occasione e ora Potenza capocolgimenti di fronte partita bellissima in questa fase ora il Potenza risponde va sul fondo Guaita Cassano squadre lunghissime Nardò che deve recuperare Potenza insiste Potenza in avanti esposito sulla destra Guaita cross palla che supera tutti Franza non ci arriva Sigla rialza ma che occasione ora per il Potenza occasioni da una parte e dall'altra partita vera partita vibrante partita veramente bella in questa fase finale in questi ultimi dieci da giocare più recupero Nardò e Potenza vicini entrambi al gol ma risultato inchiodato sull'1 a 0 per il Nardò Selva Cavaliere Mangione Vertacchi nel vuoto Mazzoleni Vertolo ancora sulla sinistra Panico Vertolo parto dietro Cassano su Franza Alessio Palmisano Mangione Mangione guadagna è un fallo laterale fallo laterale per il Nardò battuto di petto Cavaliere Mangione Cavaliere Vertacchi a Godirin a Godirin entra in area a Godirin si ferma si ferma che cosa sbaglia che cosa sbaglia Gigante che cosa sbaglia Gigante sulla discesa di a Godirin Gigante fallisce il raddoppio e ora c'è il Potenza che insiste che finale ragazzi bellissima questa partita perché è venuto qui a 0 gradi in questa serata ma attenzione Potenza in area pallone che balla caporale spazza via ma c'è un intervento della Potenza che ora spinge a tutto organico Nardò tutto indietro Franza perde palla Alessio Palmisano Temporeggia guadagna un fallo laterale Nardò può rifiatare Nardò può rifiatare due discese di a Godirin hanno aperto la difesa della Potenza e Nardò non è riuscito a trovare il colpo decisivo del KO con Gigante ma si gioca c'è ora forse un cartellino no niente minuto 37 38 in questo 38esimo minuto spazza Scipioni sempre su a Godirin ma c'è il Potenza e si gioca le ultime carte in questi 7 minuti più recupero Vertolo pallone in avanti salta di testa Franza ma c'è Caporale Vertacchi mette ordine palla a terra si distende il Nardò con Gigante Gigante apre sulla sinistra va Versienti Versienti ancora lui cerca di convergere palla buttata un po' casualmente in area spazio per il Potenza per risalire ormai si gioca da un'area all'altra Caporale decisivo questo aggancio ma ancora Potenza palla in avanti Franza non aggancia ci pensa Gigante guadagna palla ancora Gigante la perde Potenza con Franza per per la corrente Berdino va il tiro deviato Selva para ma che occasione anche questa per il Potenza separata di Selva di tiro era molto insidioso trentanovesimo del secondo tempo Selva per Mangione inesauribile la prestazione di questo ragazzo poi c'è Scipioni a Godirin Nardò che non si fa schiacciare non c'è fallo su Mangione ci stava tutto rimessa con le mani per il Potenza ed è fallo di Esposito punizione per il Nardò quarantesimo battuto Mangione a Godiri intacco Cavaliere Cavaliere non c'è riva Esposito Esposito Siglari Franza Esposito ma ancora Scipioni 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 a Godirin sulla destra a Godirin vediamo cosa si inventa stavolta il cross palla che sta per finire fuori giustamente a Godirin spezza l'assedio 40 e 20 secondi 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 battuto Scipioni cross tiro cross palla troppo lunga finisce sul follo Mazzoleni deve fare raccattapalle battuto c'è qualcosa da rivedere in mezzo al campo forse una sostituzione entra Pellinardò Gaetano Palmisano il posto si viste una da la mia amica a Godirin esce a Godirin contra Gaetano Palmisano capo rotundo capo rotundo non è non è Gaetano Palmisano ma è capo rotundo quindi per un esordio scende gigante ancora lui gigante converge va il tiro gigante e para Barzoleni bella azione di Cabo gigante 42esimo aspettiamo il recupero palla lunga Franza controlla mette a terra ha spazio su di lui Cassano vede sulla destra Guaita palla troppo larga rimessa con le mani per il Nardò fanno laterale per il Nardò battuto palla fuori battuto male battuto male rimane in attacco il Potenza dietro Bertolo per Marzoleni alza il pallone Russo Versienti Guaita calcio di punizione per il Nardò rimane a terra Versienti rimane a terra Versienti 43esimo 2 più recupero alla fine parte caporale cerca caporotundo palla su Cavaliere Cavaliere si destreggia ancora Nardò in avanti con Palmisano ma il tiro Palmisano balo di Palmisano palo grande azione di Alessio Palmisano partita in billico fino all'ultimo batte Marzoleni palla che si impenna al centrocampo spizzata ma caporale butta in avanti Panico insegue palla laterale Nardò vicino al raddoppio ancora una volta palo di Alessio Palmisano Mangione attenzione Franza Cassano su di lui Cassano non ci pensa due volte Panico Panico Potenza in avanti Franza Vaida Dardò in difesa Occhio sulla destra avanza il Potenza 5 di recupero può succedere è veramente di tutto Unizione per Impotenza Palla Palla che spiove Sipioni spazza Palmisano Cavaliere 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 Vede Perzienti anzi Caporotundo 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 non è fuori gioco Mangione anzi si Mangione perde palla anche qui Nardò ha giocato male la ripartenza Potenza che può ancora insistere Cavaliere che fisico questo ragazzo tutti i palloni lottati va la bandierina viene palla e lotta su ogni centimetro quadrato c'è un fallo fallo in attacco non se ne mandano a dire gigante Siglary se ne fa il primo di recupero ma si gioca e come se non si gioca fallo di Scipioni giallo anche per Caporale ormai la partita tanto si gioca anche questo fino alla fine ormai c'è poco da andare per il sottile siamo nel recupero Esposito butta il pallone in aria un mischione Siglary murato letteralmente calcio d'angolo muro del Nardò calcio d'angolo per il Potenza si gioca partita vibrante fino all'ultimo Potenza in attacco tutto il Potenza in attacco palla in aria cross rete e rete del Potenza ha pareggiato il Potenza con Franza 1 a 1 al 92esimo come si poteva prevedere la partita fino all'ultimo fino all'ultimo viva e arriva il pari del Potenza dopo una serie di palle gol fallite dal Nardò per chiudere ora si va molto presumibilmente ai calci di rigore e va bene l'attacco del Potenza è arrivato il gol ed è 1 a 1 battuto Cavaliere Bertacchi pallone lunghissimo a cercare Versienti poi Mazzoleno risultanza di Nicola Ragno non è che ci sia piaciuta molto comunque è così il segno è giusto che debba esultare Bertacchi ancora Nardò che ora prova a tenere palla Versienti in avanti per Cavaliere ma ormai si lotta su ogni pallone guadagna palla Bertacchi poi in avanti Palmisano Palmisano fermato in pallo laterale nervosismo in campo pallone dietro per Mangione ancora Nardò in avanti arriva un cross palla che fila in calcio d'angolo e Nardò può chiudere con un tiro dalla bandierina va Bertacchi tutto Nardò in avanti l'arbitro non lo concede si va ai rigori l'arbitro non concede il calcio d'angolo a Nardò e si va ai rigori come forse era prevedibile Nardò non è riuscito a chiudere con il raddoppio il potenza è arrivato ha trovato il pareggio nel recupero ora Taurino richiama i suoi si va ai rigori si va ai rigori si va ai rigori e va bene va bene così va bene così partita nulla una finale una finale che non toglie nulla al Nardò che ha fatto vedere una grandissima prestazione si va ai rigori non ha un esito che non scalfisce assolutamente la gran bella partita della Nardò quindi rimarrete sintonizzati su Nardò Granata perché fra poco vedremo la lotteria dei calci di rigore Nardò e Potenza hanno dato vita a una grande match molto bello molto spettacolare da entrambe le parti Nardò poteva chiuderla Potenza l'ha raddrizzata nel finale ma bisogna essere onesti anche il Potenza ha avuto l'occasione per pareggiare ben prima del novantesimo Nardò poteva chiuderla nel finale il paro su Palmisano il paro su Palmisano è stato decisivo e poi Franza Franza ha pareggiato ma andiamo ai calci di rigore spettacolo nello spettacolo per questa e questo match natalizio pre natalizio qui a Nardò sotto zero gradi ma ci stiamo veramente divertendo con un bel calcio da parte del Nardò e del Potenza due bellissime formazioni che hanno dato vita a uno spettacolo calcistico di tutto rispetto che è un'esercizio che è un'esercizio e l'accordo, parcia, parcia ragazzi! Quando vanno a tirare puoi dire tu il Dallio. Non lo so, 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 non lo so. Allora, vediamo un attimo di individuare i rigoristi. Ah, due ragazzi sono, per resto. Allora, comunque vada, è stato sicuramente un bello spettacolo da parte di Nardò e Potenza in questo sedicesimo di Coppa di Serie B. Potenza, Nardò ha segnato sul rigore nel 47esimo del primo tempo con Caporale, Potenza allo scadere del secondo tempo con Panza. Uno a uno, si va ai rigori, importa Selva e Mazzoleni e vediamo un attimo. Quindi si tira da questa parte, cioè dalla parte, non c'è il tipo Granata. Allora, vediamo Alessio Palmisano per essere il primo tiratore nel Nardò con Alessio Palmisano. Quindi rimanete sintonizzati. Palmisano, Alessio contro Mazzoleni. Prima rigore. Batte Alessio. Parato. Parato da Mazzoleni. Errore. Errore di Alessio Palmisano. Come era successo già contro il Taranto. Errore dal dischetto di Alessio Palmisano. E ora tocca a... Tocca a... Guaita. Guaita per il Potenza. Guaita contro Selva. Rete. Poteza in vantaggio. Guaita. Quindi un rigore a zero per il Potenza. ora per il Nardò va a battere Scipioni. 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 Contro Mazzoleni, che ha parato il primo rigore a Alessio Palmisano. Scipioni. Rete Rete di Scipioni 1-1 ora tocca a Franza Oltro di lui Selva Al suo esordio Di fuoco Rete 2-1 Franza decisivo Nei 90 minuti Con il gol sul calcio d'angolo Ed ora anche sul dischetto La stessa cosa non si può dire Per Alessio Palmisano Palo nei 90 minuti Errore dal dischetto Ma ancora Ci sono tre rigori da tirare Per il Nardò Va a battere Davide Cavaliere 2-1 per il Potenza Dopo due tiri dal dischetto Terzo calcio di rigore Per il Nardò Batte Davide Cavaliere Batte Cavaliere Rete Secondo gol Per il Nardò 2-2 provvisorio Ma il Potenza Deve battere Con Siglari Il suo terzo Calcio di rigore 3-2 per il Potenza 4-2 per il Potenza Calcio di rigore Calcio di rigore Quarto turno di rigore Di tiri Il Nardò Ricordiamo Ha sbagliato Un rigore Potenza ha segnato Tutti e tre Quindi un rigore Di vantaggio E ora Caporale Vediamo se Riuscirà a vissare Il suo tiro Dal dischetto Vediamo che Nardò È andato in vantaggio Con Alessandro Caporale Rete Terzo rigore Messo a segno Dal Nardò Ancora lui Alessandro Caporale Selva Viene Incoraggiato Da Alessandro Caporale Va a battere Per il Potenza Va a battere E che numero è? Il numero 60 Se panico Vediamo un attimo Chi è Il tiratore 40 60 Berardino 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 contro Selva Quarto rigore Anche per il Potenza Prete Aveva intuito Selva Ma è stato troppo angolato Il tiro di Berardino E ora Ultimo Turno Di calci Di rigore Di tiri Bertacchi Bertacchi Nardò Deve segnare Può sperare Nella parata Di Selva Però Dal dischetto Va Giorgio Bertacchi In corsa breve E rete E rete 4 su 5 Del Nardò E ora Il rigore Che può essere decisivo Batte Bertolo Bertolo contro Selva Corsa lunga E centrale Peccato Rete Rete Di Bertolo Il Potenza Passa il turno Selva Aveva Intuito Potenza Passa il turno Applausi Per il Nardò Grande partita Del Nardò Non è bastato Il Potenza Passa i calci Di rigore Va bene così Niente può Scalfire Questa bellissima Partita Del Nardò Che ha dimostrato Di essere Squadra Di qualità Squadra Di rango Il Potenza Riesce a raddrizzare Nel recupero Con Franza E poi Con un solo Calcio di rigore Di vantaggio Chiude Vincendo Questa Questa sfida Dei sedicesimi Andrà ad affrontare Il Ligea Al prossimo turno Il Nardò Esce Con Sicuramente A testa alta Non c'è dubbio Che è stata una partita Di grande spessore Da parte Dei Granata Non c'è da fare Drammi La Coppa Italia Non è Un obiettivo Primario Per il Nardò Ma quello Che poteva fare Nardò L'ha fatto E molto bene Mancato un pizzico Di fortuna Nel finale Con il palo Di Alessio Palmisano Poi per caso Che Alessio Ha sbagliato Anche il rigore Ma non possiamo Farle né una colpa Nardò Nardò ha giocato Molto bene E passa il Potenza Accentiamo il verdetto Complimenti al Potenza A questa squadra Guidata da Mr. Ragno Grazie ragazzi Grazie Grazie Possiamo che salutarvi Da Nardò Granata Per questo bellissimo spettacolo di calcio Che le due squadre Hanno saputo offrire In una notte Fredda Qui a Nardò E allora Auguri a tutti E abbracci a tutti quanti Vogliamoci bene Con un altro spettacolo calcistico Da Nardò Granata è tutto A risentirci E una buona serata a tutti quanti